Grazie a tutti Salve ragazzi oggi parliamo di un'esca della 2 precisamente del Road Trail 130 un'esca affondante da 29 grammi precisamente slow sinking caratterizzata da una paletta molto pronunciata e studiata dalla 2 per poter lavorare in condizioni metomarine in luoghi dove sono presenti forti correnti Il Road Trail 130 è un'esca che è già stata ampiamente testata in zone oceaniche con ottimi risultati soprattutto sul Blackfin Sea Bus Questo artificiale è stato pensato per stare in pesca anche quando le condizioni del mare sono veramente critiche Il Road Trail è un'esca molto robusta e monta due ancorette 1 RST56 dell'1 I pesi di questo artificiale sono stati distribuiti in modo da mantenere il baricentro basso questo a favore della tenuta di corrente ma a sfavore del lancio Il Road Trail è un'esca affondante possiamo sfruttare questa sua caratteristica quando peschiamo in zone dove sono presenti canaloni o buche per esempio nelle lagune è un'esca che potremmo definire user friendly abbastanza facile da utilizzare anche a mani non esperte possono lanciarla e recuperarla ottenendo dei buoni movimenti Sul recupero lineare il Road Trail produce un wobbling abbastanza 100W Risulta essere più marcato invece il movimento oscillatorio intorno al proprio asse Se sapientemente giaccata l'esca è in grado di produrre quegli sbannamenti e quegli scarti laterali che sono tipici del pesce ferito Allora i target di quest'esca in Mediterraneo sono veramente tanti si passa dalla Spiegola al Barracuda al Serra al Ventice Questa è un'esca che io personalmente utilizzerei soprattutto nella ricerca dei dentici in mezzo alla schiuma di scogliera che è un'esca che mi ha dato anche già buone soddisfazioni insidiando le spigole all'interno della laguna Grazie a tutti 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 Grazie a tutti